Anche l'Umbria partecipa alla giornata internazionale della guida turistica, istituita nel 1990 dalla Federazione Mondiale delle Guide Turistiche e che si celebra in tutto il mondo il 21 febbraio. Referente dell'iniziativa per l'Umbria è l'Associazione Guide Turistiche dell'Umbria. La manifestazione sarà una festa, dicono gli organizzatori, un momento per presentare gli aspetti di una professione appassionante e poco conosciuta, fatta di rispetto per il patrimonio, competenza e propensione per il racconto e per l'incontro con il visitatore. Nei weekend che seguono la giornata si svolgeranno visite guidate gratuite in tutto il mondo e quest'anno per l'Umbria le visite guidate si svolgeranno in due importanti luoghi sacri dedicati al culto della Vergine. Sabato 5 marzo al Santuario di Mongiovino Panicale, decorato con opere architettoniche e ad affresco del Secondo Cinquecento in collaborazione con Gaia. Domenica 6 marzo invece a Santa Maria di Pietra Rossa Trevi che conserva oltre 90 freschi votivi realizzati dai maggiori maestri medievali dell'Umbria meridionale. Le visite guidate si terranno alle 11 e alle 15.30. Per l'occasione chi vorrà potrà lasciare anche una donazione in favore di AUC Ollus.